Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Fortnite! Finalmente è uscita la nuova skin di Captain America! Questa notizia si sapeva già che usciva questa skin da almeno tre giorni! E' finalmente uscita e io l'ho comprata, guardate che bello! Lo zainetto e lo scudo, lo scudo e lo zainetto! Ed è anche un bel piccone! Molto 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 bello! Comunque ragazzi c'è il set di Captain America! Che è come vi ho fatto vedere skin, poi dorso decorativo e anche il piccone! E poi c'è anche questo balletto di fuoco artificiali che partiamo per la vittoria americana con la stella sullo scudo di Captain America! Comunque ragazzi vediamo adesso il suo trailer! E' già, c'è un trailer! Guardiamo il video perché quando accendi la play dopo l'aggiornamento che hanno fatto per questo studio, c'è questo video! Guardate il portale di Asgard che trasporta Capitano America sull'isola di Fortnite! Guardate che bello! E' fatto dei dettagli molto bene! Secondo me è una delle skin di sole di Fortnite! E poi guardate il portale di Asgard che secondo me non c'entra niente! E' bello!